Ciao ragazzi, allora oggi vi facciamo ascoltare un brano di una di quelle artiste che ci ha lasciato troppo presto e stiamo parlando di Amy Winehouse. Oggi vi facciamo ascoltare You Know I'm Not Good. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciateci un commento se vi piace quello che vi facciamo ascoltare e tanti mi piace! 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 Tanti mi piace!